Costa, sono passati diversi mesi, voi attendete dalla Regione una risposta importante per quanto riguarda la nomina dei portatori di interesse che potranno poi nominare il nuovo CDA degli istituti riuniti. Dal 13 giugno attendete questa risposta dalla Regione? Sì, noi attendiamo la risposta della Regione, ma più che la risposta la ratifica della nomina sia quella mia e quella anche della parte dell'opposizione per far sì che si possa insediare il nuovo CDA. Come saprete tutti c'è stata una sentenza del TAR che ha annullato il CDA precedente perché è stato nominato illegittimamente e il Comune di Chieti subito ha nominato i due rappresentanti. Due rappresentanti che da giugno stanno aspettando che venga ratificata per poter far sì che si insedi il nuovo CDA. Il nuovo CDA che già da tempo doveva essere al lavoro, visto che la Regione ha deliberato anche la somma di 700 mila euro per la ristrutturazione della struttura, che non so come fa il Commissario alla data di oggi a gestirla. Visto che la Regione ha 30 giorni di tempo per ratificare le nostre incarichi, ne sono passati 4, sicuramente se a termine non arriveranno le nostre ratifiche ci rivolgeremo alla Procura Repubblica. Il pensiero di Forza Italia, ma forse la realtà delle cose è che la Regione con questo atteggiamento di ritardo nella nomina dell'Assemblea e quindi del Consiglio di Amministrazione dimostra la poca attenzione non solo per la città di Chieti e per le problematiche per le quali c'è bisogno di un'accelerazione amministrativa, ma dimostra il fatto anche che non ratificando le nomine del Consigliere Costa e della Consigliera Zappalorto, nonché Presidente Provinciale del PD, fa capire come questo atteggiamento l'assista gestire negativamente sulla questione delle ex IPAB. Un'altra questione, se non si ratifica o non si costituiscono gli organi che sono di gestione e di controllo, può un commissario affidare dei lavori con un'ampia cifra di 700 mila euro errotti e non avere alcun controllo da parte dei rappresentanti nominati ai portatori di interesse nella fattispecie dei consiglieri comunali di Chieti?